La Körner è una società italiana che produce, commercializza, morsettiere, connettori e dispositivi di connessione elettrica a Cusago, nell'Interland Ovest di Milano. La società è stata fondata nel 1951 da un cittadino italiano di origini tedesche, al quale deve il nome, ma dal 1988 appartiene alla famiglia Pagini. La Körner opera con una ventina di macchine di assemblaggio automatico computerizzate, di cui due commissionate ed entrate in funzione solo nell'ultimo anno. E questo perché la società che agli inizi lavorava con due reparti, uno destinato allo stampaggio dei corpi plastici e l'altro destinato all'assemblaggio degli stessi con le parti metalliche, quali viti e bussole, sta investendo specificatamente nell'ultimo periodo proprio in quest'ultimo settore, quindi quello dell'assemblaggio, per avere macchine di assemblaggio automatiche con una capacità produttiva sempre più elevata ed efficiente. I principali prodotti sono esposti in queste vetrine e vanno dalle morsettiere Mammut a vite. Mammut è un marchio depositato dalla Körner agli albori che poi nel tempo è diventato così popolare da identificare un genere merceologico specifico, cioè quello di queste morsettiere a vite, a livello universale. Queste morsettiere sono realizzate con diverse tipologie di materiali plastici che resistono a temperature di esercizio diverse per applicazioni che spaziano dall'ambito dell'illuminazione a quello dell'elettrodomestico, al civile, al condizionamento e alla ventilazione. Oltre alle morsettiere a vite, la Körner produce morsetti ad innesto rapido, morsetti lamellari, faston, morsetti per circuito stampato, morsetti con porta fusibile, morsetti volanti, ceramici per quadri elettrici e scatolette a tenuta stagna con un grado di protezione all'acqua che va dall'IP44 all'IP68. In particolar modo le connessioni IP68 rappresentano una linea di prodotti nuova per noi che presentiamo per la prima volta a questo salone. I prodotti della Körner sono tutti certificati dai principali enti di omologazione per i connettori in bassa tensione come l'IMQ in Italia, il VDE e il TUV in Germania e l'americano UL per il marchio americano e canadese CURUS. La conoscenza e l'esperienza maturate in tanti anni di attività consentono alla Körner di essere anche un partner per i clienti più esigenti nello studio e nella progettazione di prodotti speciali custom. La partecipazione alla fiera Euroluce all'interno del salone del mobile e più precisamente all'interno di una selezionata galleria di componenti per la luce è l'espressione che la Körner con un'attività di oltre 70 anni alle spalle è una società solida, valida, affidabile e flessibile con una vasta clientela internazionale proprio come questa fiera. Il team Körner è sempre attento ad ascoltare le tendenze di mercato e a raccogliere nuove sfide.